Per i tuoi crediti FIFA 17, scegli i migliori, scegli i più veloci, scegli i GVolt, link e con il ciasconto qui sotto in descrizione Dai su ragazzi non mi rompete le scatole, non è possibile che con il primo posto in campionato, praticamente il primo posto nel giorno di Champions Mi venite a dire che non riusciamo a espandere il nostro marchio Sassuolo guarda che se mi rompi le palle è fuori le coglioni E oggi si gioca una partita importantissima contro il Cagliari di The Giant a modalità leggenda Ragazzi dobbiamo assolutamente riprendere il Napoli, dobbiamo allungare sulla Juventus ed è proprio per questo che oggi vinceremo a tutti i costi I ragazzi sono stanchi quindi un pochino di turnover purtroppo va fatto ma sappiamo che quando giochiamo senza il Gallo Belotti non è mai assolutamente facile È praticamente un turnover totale perché la prossima c'è la Champions e quindi ragazzi dobbiamo concentrarci L'unico titolare è Pellegrini e ovviamente il nostro magico fantastico idolo Gigio Donnarumma ti voglio bene In realtà sembra una gara semplice, una gara scontata, una gara di poco conto ma questi tre punti risulteranno pesanti nell'arco della stagione Perché non possiamo permetterci di perderne troppi da quelli che vanno avanti e quelli che ci inseguono Anche perché lo sappiamo nell'ultimo episodio di modalità leggenda siamo sempre andati in vantaggio Eppure tutte le volte che gli altri scendevano ci facevano gol Però noi abbiamo due squadre praticamente non possiamo permetterci di perdere troppi punti e roba dentro per Kishina Attenzione Sturaro dentro per Nyang Nyang chiede l'1-2 a Kishina, Kishina gliela vuole ridare Nyang Nyang al tiro di Nyang la paratona subito del portiere ma che azione abbiamo fatto spumeggiante Attenzione c'è Balsano che vuol mettere un cross in mezzo, oddio mamma mia che cosa è successo Donnarumma ha fatto un paratone incredibile e adesso possiamo ripartire in contropiene ma ci siamo salvati Il Cagliari ha tirato una pacca secca in questo modo Dentro per Nyang e dietro la difesa Mbaye Nyang non ce la fa Perché Lirola è qui, perché Lirola è lì però serve Robben quindi va benissimo Robben vuole andare largo da Kishina che protegge bene la palla e poi va dentro da Sturaro Sturaro bomber implacabile Oh forse è bestemmiato Cerchiamo di tenere almeno le marcature che è la cosa più importante sui calci piazzati Robben dentro fa ripartire Kishina mamma mia che palla dolce che ha dato Robben a Kishina E adesso ripartiamo speriamo che non ci stechino come fanno di solito Kishina è più veloce di tutti Ancora Kishina porta palla sempre lui deve aspettare i compagni Ancora Kishina Kishina sempre Kishina vuole allargare lo fa adesso su Pellegrini Ancora Pellegrini vuole andare largo dove trova Lirola Lo stop la mette in mezzo per Kishina che non ci arriva Ci arriva però Nyang che va a cercare Robben il suo compagno in attacco Robben in aria col destro Robben La parata del portiere e Kishina non riesce a ribadire in porta Marco Sau in aria attenzione pericoloso Sau soprattutto se ne rimane la palla Lì porca puttana Mi arrabbio tantissimo mi arrabbio che gli rimane la palla lì Questa intelligenza artificiale modalità leggenda è troppo per me troppo Guardate rimane la palla lì il tacco Chi ci mette fuori causa e poi c'è il gol di Di Gennaro 1-0 Cagliari 1-0 Cagliari Attenzione Robben Robben vede Kishina che vuole tagliare dietro Kishina più veloce di tutti Riesce in Tragunera La stoppa Lo dribbla Kishina la mette per il compagno Non lo trova Bruttissima storia Bruttissima storia Ancora Sau va dentro Sau il tiro Donna Rum Grazie signore Grazie Gigio Blackout completo del Sassuolo Ragazzi blackout completo Attacca solo il Cagliari A campione son troppo forte A leggenda son troppo scarso Che cosa faccio? Lo batte Bruno Alves addirittura Come perarsi prendere per il culo dal computer Che va a battere gli angoli I difensori centrali Alti 8 metri Alves ancora Dalla bandierina La mette dentro Riusciamo a toccarla in qualche modo Ma guarda a caso Non riusciamo a uscire Cambi Cambi assolutamente Cambi Pellegrini non ce la fa E io devo metterlo dentro Ribery Mi ero portato Mandragola Per metter lui Ma mi serve più spinta Anche a centrocampo E probabilmente Anche il turno di Muriel Mettiamolo dentro al posto di Kishina E mettiamo Robben dietro le due punte Fra un po' metto il gallo Belotti Attenzione Il Cagliari in area Girati Non dobbiamo fare fallo Assolutamente in area Riusciamo a toccarla in qualche modo Faccia ripartire Niang Robben E Muriel Attenzione Niang La vuol portare Robben largo Lo serviamo Vai Arien Vai Portala a te Spingite Arien Ancora te Fai il numero Arien Non riesce a saltare il giocatore Muriel Attenzione Servito a Robben Robben che vuole andare Robben Ancora dentro Per Niang In anticipo Niang La tocca Non ci credo La riprende Cragno Gallo ci serve la tua finalizzazione Almeno portare a casa un punto Un punto ci serve Provo il tutto per tutto Metto un 4-3-3 offensivo Ragazzi Dobbiamo cercare di attaccare Con più uomini possibili Non Se no non ce la possiamo fare Muriel Dentro per Belotti Belotti va a largo A cercare Frank Ribery Vai Frank Che sei arrivato al Sassuolo Devi fare qualcosa E vi hai fatto bene Ancora Ribery Sempre Ribery Vuole andare dentro da Belotti La prende Bruno Alves Ancora Belotti Non riusciamo a riprenderla E poi facciamo partire Calabria Calabria nello spazio Serve Belotti Ancora Belotti Vuole andare ancora da Calabria Calabria si inventa ala praticamente Ancora Calabria Porta la palla Va a cercare il compagno Calabria Si appoggia Belotti Dentro per Ribery Ribery può arrivare sul fondo Può mettere la palla Per Niang Capagliato il gol di Niang Che azione abbiamo fatto All'ottantottesimo Traviamo il pareggio Con Baye Niang Fergri Ma che azione incredibile Che è venuta fuori Ragazzi del Sassuolo Siete fenomenali Bellissimo cross Niang stacca E c'è il gol Niang sempre in momenti decisivi Si fa sentire Non muore mai Niang Il primo gol In Serie A In questa stagione E c'è ancora tempo Ci sono due minuti Possiamo sperare Nell'impresa Nel miracolo Finisce E' solo 1-1 Ma c'è andata bene Perché fino all'ottantottesimo Stavamo perdendo Un punto E' meglio che niente Però non possiamo Essere contenti E soddisfatti Siamo a meno due Dal Napoli Mamma mia Non siamo più primi In classifica E' come se non bastasse Subito C'è l'Atletico Madrid In Champions League E non sarà una partita Per niente facile E questa è molto più importante Che il campionato Sassuolo Atletico Madrid Ragazzi Stiamo tutti bene Praticamente Se non pellegrini E purtroppo Anche Sturaro È abbastanza stanco Però voglio partire Con Stefano E poi Ho dei bellissimi ricordi In Champions Con Sturaro Contro una squadra di Madrid Champions Cup Sassuolo Atletico de Madrid Non è facile Non è facile per niente Soprattutto perché Non sono riuscito a vincere All'andata Difficoltà campione Adesso modalità leggenda Sarà un'impresa Si sogna Si vince Si segna Si esulta Tutti insieme Piazza Vuole andare Ancora Marco Piazza Si libera Dalla tre quarti Piazza fuori di pochissimo No subito l'Atletico Dentro con Griezmann Donnarumma Donnarumma Intanto l'Atletico In questo momento È fuori dalla Champions Se buttare fuori Una candidata del genere Alla vittoria finale Non sarebbe per niente male Assolutamente no Però dobbiamo rimanere concentrati Perché questa partita Può volere tutto Può dire tantissimo E Griezmann Ci ha saltato tutti Come i birilli Ma c'è un certo Gigio Donnarumma Fenomeno vero Internazionale In porta Che tu vuoi fargli gol Ma non ci riuscirei mai Siamo padroni del campo Gestiamo il possesso palla Come poche squadre nel mondo Dentro per Belotti Che va da Berardi Berardi si vuole girare E ce la fa Vai in area Ma ce l'ha sul destro Berardi Questo è calcio di rigore Questo è calcio di rigore Contro l'Atletico Madrid E Miranda Che è tornato all'Atletico Non si sa perché Vediamo il provvedimento disciplinare Sarà cartellino Il colore giallo Giustamente Mi vorrebbe da dire Però L'importante È che sia calcio Di rigore Il Gallo Belotti Contro Black Che Calandata ci ha fatto penare Ancora Belotti Vuole andare dal dischetto Gallo Belotti E Gallo Belotti Che esulta così Come di dietro Va Va sotto la curva Va dalla bandierina Gli tira un calcio Come il toglio cassario Esulta come a tutti Gli attaccanti più forti E Gallo Belotti Ci porta in vantaggio Quindi è la partita Più difficile dell'anno In Champions League Contro l'Atletico Difficoltà leggenda Ma il Gallo Belotti Non può deluderci Li vogliamo troppo bene Gallo Io ti amo Gallo Belotti Io ti amo Se stai guardando questo video Ti prego Facciamo un episodio Della carriera insieme Io e te Tu con la maglia del Sassuolo Ho scritto Belotti 9 Sarebbe bellissimo Sì ma ragazzi Griezmann non è legale È di piccola leggenda Non è veramente legale Come lo fermi Gli devi sparare alle caviglie Poi forse va lo stesso Piazza che è più veloce di tutti Ancora Piazza Vede Berardi Il taglio di Berardi Gliela diamo sulla corsa Mimmo Adesso arriva nella sua zona preferita La vuol mettere Per il Gallo Che non ci arriva Piazza Attenzione Berardi Lo stop E il tiro a giro di Berardi Contro due difensori dell'Atletico Belotti Con la testa Si appoggia a Piazza Poi il tiro di Piazza Bellissima azione da rimessa laterale Guardate chi è Guardate chi è È Romagnoli Che in Champions si esalta Dentro per Berardi Filippoli sta stop a male Berardi prova il tiro E sarà calcio d'angolo Romagnoli si è procurato Qualcosa di incredibile Ok Da la bandierina Non sa La mette C'è Rugani Che va a saltare Rugani Attenzione perché Mattiello La può inseguire Mattiello è anche Mancino Può andare subito A proporsi per il cross Mattiello contro Griezmann Mattiello la tiene Mattiello lo salta Mattiello sul fondo Mattiello E ancora Per Sturaro La palla è lì Piazza Il tiro di Piazza Deviata Ancora angolo Gameiro Che all'andata ci ha segnato Attenzione ancora Gameiro In area la mette Mamma mia Che brutto fallo Eh sì Eh sì È calcio di rigore Però De Sciglio De Sciglio io non ti ho dato Nessun ordine Di fare qualcosa del genere L'hai fatto tu Hai fatto tutto Tu De Sciglio Calcio di rigore Anche per l'Atletico Ancora Gameiro Sul dischetto Madonna Rumma Non ha paura di niente Perché Donna Rumma Li può parare tutti Donna Rumma No sbaglia Anche lì all'angolo Ed è uno a uno Ancora Gameiro Kevin Gameiro Pareggia i conti Uno a uno Contro l'Atletico De Madrid Ragazzi Tranquilli Abbiamo ancora tempo Per cercare Il vantaggio Potremmo eliminare L'Atletico Questa sera Possiamo buttare fuori Una spagnola Dalla Champions Una delle più forti Una che in finale Ci arriva praticamente sempre Dai ragazzi Crediamoci Facciamo l'impresa Non sa Mattiello Vada Belotti Brutta palla Ci proviamo ragazzi Proviamo A passare al 4-3-3 Proviamo a vedere come va 4-3-3 offensivo Quindi dentro Un attaccante Al posto di un centrocampista Dato che Sturaro è stanco Dato che Pellegrini è stanco Dobbiamo provarci Dobbiamo provare a cambiare qualcosa Berardi Belotti Piazza Chisna Anche se in questo momento Forse è meglio mettere dentro Ariel Robben Ancora Carrasco Che prova a driblarci Con una serie di finte Carrasco C'è Mattiello Mattiello lo butta giù Non è fallo Allora passa a ripartire Con Ariel Robben Che sbaglia tutto Mattiello la recupera Ancora una volta Non la tocca quanto basta Carrasco In area Attenzione Esce benissimo Rugani Muro Leader Veramente un giocatore fantastico Cambiamo gioco Proviamo ad andare avanti Ragazzi stiamo sbagliando Tutti i passaggi Non ce la facciamo più Non ce la facciamo più Anche mentalmente Belotti Attenzione Fa salire i compagni E si propone Ariel Robben Con il taglio di Chisna Robben Cerca di dargliela Che cioccolatino Chisna ce l'ha sul mancino E ancora Oblak Ancora Oblak Ma Chisna Che gol mi hai sbagliato Non da te Il taglio di Robben Robben Si vuole appoggiare Belotti lo stop Il tiro del gallo All'ottantottesimo L'occasione Clamorosa ed oro Di pochissimo Noe Noe Assolutamente no Non me lo sarei meritato Chisna Fa andare Diavara Diavara Va largo Daria e Robben Robben Prova a saltarlo Robben ce la fa Attenzione che se ne va via Potrebbe essere clamoroso Quello che sta per succedere Robben In area Robben la mette per Belotti Che va in mano d'Angelo E non ci arriva per un millimetro Fortunatissimo L'Atletico di Madrid Ma noi siamo ancora qui E Chisna sbaglia L'ennesima palla Della sua partita E ancora una volta Uno a uno Non siamo ancora riusciti A vincere La difficoltà leggenda Ma questa partita Può essere anche Bello E dobbiamo riuscire A superarmi Il rosso blu Ma non in questo episodio Nel prossimo In questo Per adesso Ci sarà solamente Da salutare L'ultimo like Su Instagram Passate qui sotto In descrizione Dove troverete Tutti i link I miei social network Tutti i canali Dei Brailless Salutate chiunque L'ultimo like Su Instagram È di Q Daniel Anche detto Dan Che non ha nessun post Su Instagram A me dispiace Ti saluto Ma non è che abbia Molto senso Questa cosa